se non mi posso battere con un pugile di nome allora datemi uno sconosciuto l'America è la terra che offre possibilità a tutti no e allora Apollo Creed il primo di gennaio dà la possibilità a un pugile bianco di diventare campione del mondo a uno di qui e non solo gli farò anche mettere la fotografia sul manifesto accanto alla mia e sapete oggi sotto costo perché provate un po' ad andare in un qualunque negozio di occhialeria a guardare quanto costa un buon occhiale da sole un occhiale da sole che abbia lenti garantite lenti di alta qualità e montature innovative box tv you ask we play play stavo con libanese quando sotto casa gli hanno sparato inserimento inserimento i buon 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 Grazie a tutti.